Ciao a tutti, bentornati! Oggi giochiamo nuovamente alle Bad Wars e basta, tutto qua, il programma è questo. Sono sicuro che sarà un grande video, quindi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piaci, davvero tanti. Poi vi consiglio anche di seguirmi sui vari social che trovate ovviamente in descrizione e basta, non mi piace fare l'intro troppo lungo e quindi ora giochiamo! Ovviamente nelle Bad Wars solo, non so il motivo ma nelle Bad Wars solo riesco a vincere, in quelle in team perdo. Non so il motivo, non sono abituato a giocare con altre persone quindi devo giocare da solo se voglio vincere. Ovviamente scegliamo il team verde perché i più forti giocano nel team verde e quello che ho scoperto è questo server è rumeno, quindi tutta questa gente qua è rumena. Potrei fare battute molto particolari ma non le farò perché sono una persona molto dignitosa. Comunque abbiamo già giocato su questo server, vi consiglio di andare a vedere questo video qua perché sì, è bello! Ehi sono il tara del futuro, mi stavo chiedendo, ma secondo voi sono forti i giocatori rumeni nelle Bad Wars? Scrivetemelo ora nei commenti, a volte mi faccio queste domande. Mi trovo abbastanza bene a giocare su questo server quindi penso che ci porterò più video, anche un po' per cambiare, se no sempre, non so, Fier Games e Pixar così, basta. Ogni tanto bisogna cambiare aria, un po' d'aria rumena fa bene. Guarda questo rumeno qua che vuole già attaccarmi, no dai sembra troppo offensivo dire così. Ah, cascata, ha perso l'equilibrio. Arriva l'italiano di turno a rompere il letto. Più che lancio che ha fatto questo qua, non se riesco a rompere il letto, oh no! Oh sì sì, ok è stato eliminato, perfetto. Allora voglio essere abbastanza veloce perché ho notato che le mie partite sono estremamente lunghe, quindi voglio provare a essere un pochino più svelto, ma non troppo perché se no... Quanto è lontana quell'isola? Allora colleghiamoci da qua, poi prendiamo qualche diamante, ci potenziamo un attimo perché non abbiamo ancora fatto niente. Giusto prot e sharpness, poi torniamo subito all'attacco. Questa mappa non mi fa impazzire perché non ha senso, è lunghissima, tipo inizia qua e finisce laggiù tra un chilometro. Quanti diamanti, abbiamo fatto jackpot, buono abbiamo già otto, così possiamo fare sia sharpness che protection. Cerchiamo di non fare cavolate perché perdere otto diamanti non è per niente una cosa intelligente. Bene, ecco qua sharpness e protection. Possiamo fare anche un haste, in caso qualcuno abbia messo la trappola, la fatica da scavo. E io attaccherai così, però non so chi attaccare. Lascerei per il momento quelli di là e mi concentrerei sul team dall'altra parte. Mi sembra la cosa più sensata da fare. Che è il team blu, che sta combattendo contro il rosso. Non sarei molto onesto nell'attaccare in questo momento, però il rosso ha avuto la meglio. Però noi ci colleghiamo lo stesso qua perché altrimenti dobbiamo rifare tutto il giro e non ne ho voglia. Nella peggiore dell'ipotesi facciamo un combattimento in più. Ok, boh, posto. Potevo anche non dropparli i diamanti, però non ci ho pensato. Qua le fireball ti danno un knockback pazzesco e mi è scivolata. Sì, ma sti punti qua, ma ci vuole un'ora per percorrerli. Adesso dov'è che scendo? Questi punti alti, fateli i bassi, è molto più facile. Usate anche meno blocchi. Ok. Boh, ho finito i blocchi, perfetto. Bene così. Noi il letto ce l'abbiamo ancora? Sì, bene. Ora ci colleghiamo da questa parte. Non ho fatto tanti blocchi, pensavo ad averne fatti un po' di più. La base del rosa è lì, credo, perché vedo dei blocchi rosa. Però io non approfitterei per tornare nella nostra base, attenzione, qua. Perché effettivamente abbiamo pochi materiali. E in ogni caso se ci vuole rompere il letto deve passare di qua. Quindi secondo me per il momento è meglio rimanere qui. Farmiamo un altro pochino di diamanti, così magari mettiamo anche una trappola in base. Sicuramente arriverà da qui. Infatti secondo me sta già arrivando. Prot e metto una trappola. Ok, bene. Una mela in più e dei blocchi e delle scale. Quello che avanza lo buttiamo qua dentro. Bene, ora dobbiamo capire da dove attaccherà il rosa. Sempre se vuole attaccare. Perché magari non lo fa. Ma penso di sì. Perché non dovrebbe attaccare. Ah no, ah da lì arriva. Da lì, da lì. Ok, 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 ok. Attenzione. Dov'è? Eccolo, lo sapevo. Voleva ingannarmi, voleva fare il giro. Ma l'abbiamo scoperto. Dov'è? Mamma mia queste bombe qui. Voleva fare il furbo, ma contro Tara. Hai ben poche speranze. Allora ancora due diamanti. Facciamo prot 3. Quindi prendiamocela con comodo. Poi lo attacchiamo. Non facciamo tutto il giro che ha fatto lui. Perché ci mettiamo una settimana. Andiamo dritti così e boh. Ditemi cosa ne pensate di questo server. Se vi piace oppure no. Come ho detto all'inizio video. Mi trovo abbastanza bene. Eccolo. Questa volta non ha fatto tutto quel giro. Totalmente inutile. Le tira la tua fireball. Ok, allora è spinta. Qua le usano molto le fireball? Boh, si è arreso. Ah, ha sloggato. No. Si è arrabbiato. Se l'è presa. Non volevo essere così cattivo. Dai. Va bene, facciamo un'altra. È durata dieci minuti. Neanche nove minuti e mezzo. Sono stato molto più veloce questa volta. Dai. Allora, vediamo cosa fa il verde. Vuole subito collegarsi lì. Io invece preferisco bardare un pochino il letto. Poi ci colleghiamo anche noi. Cambiamo anche noi lì. Tanto ha preso solo un diamante. Non ci cambia molto. Però noi abbiamo un letto coperto e lui no. Abbiamo anche due diamanti. Ma io dico sì. Ne approfitto subito per fare prot e mi sa che devo fare una mela dorata. Eh sì, dobbiamo fare la mela d'oro. Che lui vuole attaccare. Spero non abbia fatto TNT. No, sto qua sale. Non salire. Stai giù. No, infatti vuole usare le TNT. Lo sapevo. Abbiamo rischiato. Però ha resistito il letto. Bravo letto. Questo qua continua ad attaccare alla cieca. Mannaggia, guarda dove dovevo finire. Ah, santo cielo. Non ci posso credere. Che imbranato. Questo qua sta letteralmente sprecando risorse. Facciamoci blocchi. E bardiamo ancora. Perché questo qua è fissato con le TNT. Non è che si fa un piccone. No, deve usare le TNT. Sta cambiando tattica, mi sa, eh. Che sta facendo? Sarò ubriaco. Bene, altri due diamanti. Grazie mille. Li prenderò dopo. Guarda come si rompe il letto per bene. Così. Ah, altro che TNT. Altra robaccia. Vediamo se riusciamo a fare sharpness. Ho fatto l'ascia di ferro per sbaglio. Vabbè, non importa. Esci quarto diamante. Grazie mille. Poi penso che andrò dal giallo. Qualcuno va al centro. Attenzione. Il rosso va al centro. Non mi piace. Qua cerchiamo di farlo un po' più... Perché dobbiamo anche tornare a casa noi, eh. Non è che ci fermiamo qui a vita. Passiamo per un saluto e ce ne andiamo. C'è neanche barda il letto. Questo, vabbè. Che ti tira. Perché blocchita un sacco? Non si blocchita così tanto. Poi torniamo indietro. Qua abbiamo finito. E ora mi sa che possiamo andare dal giallo. Che sta combattendo contro il bianco. Qua è tutto tranquillo. Sì, perché stanno combattendo tra di loro. Allora, possiamo lasciarli combattere. E noi andiamo al centro. Sì, sì. Facciamo così. Lasciamoli combattere tra di loro. Tanto ci guadagniamo noi. Magari sono anche forti. Meglio così. Una bella armatura in diamante. E via. Tanto fretta noi non ne abbiamo. Non come gli altri giocatori delle Bedwars che hanno sempre fretta. Una cosa che non mi piace delle Bedwars è che molti muoiono. Anche se muoiono otto volte a partita gli va bene lo stesso. A me questa cosa qua non fa impazzire. Se riesco a non morire, meglio. Gente che si lancia nel vuoto oppure che continua ad attaccare e morire. Non mi piace quel metodo di gioco. Non che mi interessino le statistiche, sia chiaro. Non è che lo faccio per quello. Ho iniziato a pensare a certe robe che... White Bed, ok. Allora noi rompiamo il suo visto che siamo qui. Vediamo come ha bardato. Ok, niente ossidiana. Vabbè, non è andato al centro. Quindi non può avercela. Qua c'è il bianco. Possiamo combatterlo noi. Oh, è già... No, 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 no. Come fa a togliermi tutti questi cuori? Però noi abbiamo la mela per fortuna. Ah, mannaggia! No, ok, siamo morti entrambi. Va bene, va bene, va bene. Preferivo non morire, ma non l'ho deciso io di morire. Ci siamo uccisi a vicenda. Allora, rimane il giallo, Darius. Ok, è la giù, ok. Si vedono anche le particelle. Invece no. No, mi sono buggato! Santo cielo. A volte anche i campioni sbagliano. Oh, a posto, abbiamo vinto. GG, GG. Niente male, niente male. Due belle partite le abbiamo vinte. Come video penso possa bastare. No, basta, basta per oggi. Basta così. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo like. Commentate con quello che volete. Esprimetevi liberamente. Fate i bravi, ci vediamo in un altro video. E... Bello! No, no, non, 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 non